Sono Paolo Mellano, responsabile del prodotto tubo in Interfam Fluid Solution. Il tubo flessibile oggi è il nostro core business e il nostro obiettivo da visita sul mercato. Nei nostri prodotti più iconici, tipo il Marathon, il Long Life, gli Isoflex, i nostri clienti ritrovano e apprezzano tutta la qualità, la dedizione, la passione che mettiamo nel nostro lavoro. Questo appena passato è stato un anno importante per Interfam Fluid Solution, sia dal punto di vista produttivo che di sviluppo. E ci aspetta un nuovo anno pieno di sfide e ricco di novità. Seguiteci! Vi terremo informati sulle nuove gambe di prodotto che porteranno Interfam Fluid Solution verso il futuro.